siamo live buongiorno fammi controllare se siamo live sì a quanto pare siamo live fammi vedere siamo live ciao a tutti ciao che sono un po in anticipo ormai sì sono uno svizzero sono troppo svizzero ormai vengo in anticipo ciao a tutti allora visto che siamo in anticipo magari due cose sono molto stanco ciao a tutti ciao 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 nuovo webcam ma no è ciò da un 2 3 da due settimane è una logitech stream cam è molto performante ma in realtà non è una webcam da 130 euro però meglio della cia fega che avevo con il mio laptop va molto meglio ciao a tutti ciao ai soliti ciao marco ciao francesco e guarda che qualità addirittura ho visto anch'io del traffico da reddit ma non ho capito da quale thread se me lo puoi link da qualche parte sto un po poco su reddit e c'è anche anche il grande flavio che onore averti qua per chi non conosce flavio fabio copes fabio copes come si pronuncia è un famoso blogger tecnologie cose varie l'ho anche menzionato una volta in un thread sui digital garden per cui grava grande welcome boh ragazzi allora sono 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 abbastanza stanco today e non so cosa sono due settimane che sto semi non sono influenzato non ho un po di raffreddore tosse quindi se oggi faccio se oggi faccio un po di omaggi a bertolucci non ve la prendete ho testato covid negativo quindi boh non è covid non sappiamo cos'è però sono debole sono giorni che che sto boh non non faccio molte cose ho neanche voglia di bloggare una voglia ho avuto un marzo pam pam è l'età sarà l'età sono vecchio e devo accettare sì sì penso di aver capito non ho visto che thread poi me lo vedo marco si è una chiave inglese sul nome utente sei stato letto meccanico perché sì ti ho ti ho fatto moderator della chat come si dice adesso hai grandi poteri con grandi poteri derivano grandi responsabilità ah questa è bellissima master rip comunque ho una nuova addiction una nuova tossicodipendenza non frugale questo oggetto qua questo oggetto qua root goods mezzo litro ginger shot ginger come si chiama in italiano zenzero 10 franchi 9 euro mezzo litro su un fottio però lo diluisci nell'acqua una bomba una godura io che sono amante dello zenzero ciao ragazzi ora ora cominciamo sul serio e ancora qualche minuto saluto tutti ciao lorenzo copes pronuncia corretta grande flavio benissimo 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 vedo gente nuova e gente vecchia allora ragazzi benvenuti ci mettiamo sul meraviglioso documento con calma con calma con calma con calma oggi volevo continuare il discorso sul critical thinking che ce l'ho sempre in testa e secondo me è qualcosa che va elaborato molto bene io in questa piccola serie voglio fare dei video parlare del concetto più che altro a voi test drivers a voi 50 100 persone o quelli che vedono vorrei non non so stimolare mostrare un po tutte le cose che ci stanno tutte le cose che mi stuzzicano il cervello in quest'ambito aprire le porticine magari che voi voi andate lì esplorate e non lo so se questa cosa mi intrippa parecchio potrebbe essere il mio prossimo trip per i prossimi anni mollo personal finance e tanto chi se ne frega siamo tutti milionari e poi mi butto a ragionare di più su questo argomento che mi piace veramente veramente tanto ovviamente non saranno tutte le live su questo canale su questo su questo topic parleremo di tanto altro però quasi tutto quasi tutto quello di cui voglio parlare nella vita ha a che fare con questi argomenti cioè sul pensiero sul ragionamento sulla pianificazione anche se vogliamo tutto tutto il mondo della produttività della knowledge management se vogliamo anche l'early retirement oppure una intelligenza finanziaria sono altri aspetti diciamo del critical thinking del poter pensare a lungo termine del tutto ciò che c'è attorno a una vita vissuta in maniera deliberata e soddisfacente non so non so bene che parola utilizzare però credo che tutto quello che a me interessa ruota attorno al concetto del pensiero critico quindi sarà un po un tema centrale poi divergeremo faremo altre cose parleremo anche di finanze e di investimenti però questa settimana ancora andiamo così fa strano che una settimana che non apro obs mentre le settimane precedenti ho sempre smanattato un po sul software a questo giro tutto ha funzionato l'olta precedente non ho fatto grandi aggiornamenti quindi rimango con con il setup dell'altra volta risponderò anche un po di commenti magari meglio se sono pertinenti però magari farò delle pause rispondere anche a commenti un po generici approfittiamo di questo spazio per rispondere anche a commenti e fare un minimo l'ho fatto il test l'ho fatto è negativo però l'ho fatto quando era venerdì scorso una settimana fa non lo so mi sento un po debole però si potrebbe star meglio eccolo il mio angelo custode l'uomo che mi ha portato alessandro hertz l'uomo che mi ha portato finalmente a un setup che si tiene in piedi su youtube per streammare ciao a tutti ciao a tutti sì c'è la moneta da 5 franchi sì qui in svizzera c'è la moneta più cara del mondo e quasi quasi forse no non ce l'ho qui ce l'ho sicuramente nel portafoglio allora vediamo un po dai speriamo un po di domande prima di cominciare marco ciao ho visto indifferito una tua live mi è stata una domanda spontanea dicevi ho ceduto alla cena da sporto 40 franchi ma con tutto il capitale che hai fai davvero attenzione a queste piccole cifre ma non sono piccole cifre anche perché la tentazione poi c'è di cedere una volta a settimana una volta al giorno c'è sempre la tentazione è un tenere un equilibrio mentale perché se cedi a piccole cose in realtà sono tante piccole cose ci stiamo un po ultimamente un po rilassando per cui cediamo un po più spesso però è una questione anche di forma mentis cioè non è una cosa che faccio sempre e volentieri esatto esatto via molla tutto il resto ciao nono tom ciao nicola ciao andrea ciao amico cinghiale bene 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 ormai sembra di stare tra amici allora ragazzi ragazzi partiamo seriamente dove sta il mio software eccolo qui allora per tutti coloro che aspettavano con trepidazione il momento in cui andavo in televisione stasera stasera c'è la prima zoomiamo un po' stasera parte su rsi la 1 che sarebbe la rai 1 svizzera italiana quindi se vogliamo la rai 1 della svizzera del canton ticino cioè immaginate qualcosa del tipo huber non si parcheggia lì boom non so se avete visto Aldo Giovanni e Giacomo ai tempi di Mediere Gold ma non so quanti di voi erano nati il canton ticino ha 800.000 abitanti e la la rsi che sarebbe la televisione svizzera il canale la 1 che è quello del canton ticino ha diverse trasmissioni molto interessanti veramente molto molto bene in lingua italiana non so se si vedono dall'Italia spero di sì non so non credo non lo so se si vedono dall'Italia però ha delle trasmissioni molto interessanti e questa che si chiama Patti Chiari è praticamente tutta incentrata sul sul è un po' come c'era in Italia qualcosa del tipo che cos'era affari miei affari tuoi no quello è quello dei pacchi no c'era una trasmissione sempre sull'economia ma c'era un altro consumo trasmissione sull'economia su risparmio sull'economia finanza personale è molto interessante e da stasera parte la serie di Valerio che parla del suo avvicinarsi al Fire e e niente ci sta prima o poi penso la seconda puntata quindi venerdì prossimo un'intervista fatta con me poi lunedì ne facciamo un'altra quindi forse comparirò in più in più episodi però avevo annunciato che stasera c'era la messa in onda stasera c'era la messa in onda ma non dovrei esserci io in televisione quindi per per il grande pubblico ancora devo aspettare prossima settimana vado a Lugano non so chi di voi è di Lugano se non sbaglio c'era qualcuno di Lugano settimana prossima sabato vado a Lugano in studio per registrare una puntata di un talk show che andrà sempre su sulla televisione svizzera Boro Talk sarà molto divertente secondo me da Lugano vengo volentieri allora ci vengo ci incontriamo Federico si potrà vedere successivamente verrà registrata sicuramente si trova il modo cioè non lo so si c'è un meccanismo tipo Rai Play svizzero soprattutto quanto nel circuito svizzero non so se magari chiedo a Valerio se si può estrarre una una clip se si può estrarre qualcosa da mettere su YouTube non lo so immagino che sia un po' complicato però immagino che a questo servono le VPN no? non l'ho mai detta non l'ho mai detta questa cosa qua non l'ho mai detta si si televisione svizzera in italiano molto interessante solo 350.000 abitanti il canton Ticino davvero? non sono convinto abitanti canton Ticino vediamo porca miseria hai ragione le mie statistiche erano diverse lingua italiana in Svizzera mi sembra che mi sembra che ci siano circa 800.000 di lingue forse si ho mischiato un po' di cose mi sembra di capire italiano è sceso all'8% di 8 8 per 8 640.000 niente niente è una delusione continua cioè agli abitanti di Zurigo tutto il canton Ticino basta non vado dai rispondo qualche domanda al volo poi partiamo con gli argomenti che sono più interessanti allora il peggior contro del vivere in Svizzera il peggior contro del vivere in Svizzera probabilmente la io vivo in Svizzera tedesca quindi sicuramente la difficoltà di integrazione con la cultura locale gli svizzeri 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 non è che sono proprio caldi non è che sono proprio familiari sono persone gentilissime tranquille sembra proprio come il Giappone il Giappone tutti quanti tutti quanti che bello che bello che bello però non è che la gente ti invita a casa non è che fai amicizia facilmente ovviamente qua a Zurigo il 40% circa tra il 35 e il 40% degli abitanti di Zurigo non sono svizzeri e tutto il mio network è italiano inglese buona parte dei documenti che trovi ufficiali online li trovi in lingua anche italiana perché è una lingua ufficiale quindi non è un grande problema però non ti senti mai completamente integrato adesso mia figlia adesso comincia a andare nelle scuole qui scuole nel Kinderkrip nella come si chiama nella Sironito e comincia a parlarmi in svizzero tedesco che non è neanche ochdeutsch non è neanche tedesco è proprio svizzero tedesco che è un dialettaccio immagina non lo so tu sei un giapponese che viene a vivere in Italia e va a vivere in non lo so va a vivere a Roma e gli parlano solo dialetto romano è un po' tosta integrarsi questo forse è il peggior contro per il resto non vedo veramente veramente altri aspetti negativi il clima d'estate è uno spettacolo ragazzi d'estate qua a Zurigo fa 30 gradi fissi non si muore di caldo non ci so zanzare la sera si sta freschi ma di giorno fa 30 gradi giri a maglietta a maniche corte e ti fai buttare nei fiumi è una figata non lo so non vedo altri aspetti negativi forse i costi di vita molto elevati però dipende cosa vuoi fare se qui lavori hai uno stipendio e via rispondiamo a una cosa tecnica la mia voce leggermente diversa upgrade attrezzature no il microfono è sempre lo stesso non ho nulla di forse sono io che sono un po' più radiofonico ho imparato le lezioni e quindi sono molto radiofonico e quindi ragazzi da oggi Radio RIP si trasferisce su sull'internet allora troppe domande ragazzi non partiamo mai non partiamo mai non abbiamo restrizioni di modi esponenti tra cantoni gli svizzeri puri parlano la lingua del loro del loro cantone che è o tedesco italiano o francese 60% tedesco 30% francese 10% italiano di solito una seconda lingua nazionale e molto spesso anche l'inglese quindi due o tre lingue è abbastanza normale ok troppo troppe cose dai spero che vi interessi l'argomento se no facciamo solo Q&A e ci rilassiamo ma volevo un minimo fare un po' di cose interessanti mi preferisco preferisco anche per voi allora zoomiamo un po' critical thinking critical thinking critical thinking cosa abbiamo visto l'altra volta più o meno un po' di definizioni e tutto il concetto delle logical fallacy ok aspetta me lo metto di qua se non sembra che guardo sempre di lato e non mi piace ok adesso ci assistiamo oggi 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 volevo andare un po' negli aspetti più costruttivi quelli che mi piacciono di più a me cioè nel costruire come costruire la propria knowledge base cosa intendo sto molto improvvisando ragazzi sto molto non mi sono preparato un gran che bene spero di stimolarvi un po' aprirvi porte poi nel tempo quando mi riascolterò farò delle modifiche magari produrrò contenuti più più di qualità adesso accontentatevi di sto di sta confusione continua allora cosa intendo per costruire knowledge base intendo dire viviamo in un mondo come dire super caotico e super pieno di informazioni di ogni tipo e navigare è impossibile quindi quindi al giorno d'oggi credo che farsi delle autodifese intellettuali sia veramente necessario se no se no siamo in balia delle informazioni sbagliate prendiamo facciamo scelte sbagliate non ci non viviamo una vita a mio avviso ottimale se non se non prendiamo come dire se non prendiamo di petto il se non siamo intenzionali nel come apprendere informazioni come elaborarle come costruirsi dei modelli mentali e così via quindi la parola chiave per me è intenzionalità è scetticismo e e conoscenza al momento ok cosa cosa intendo scetticismo ovviamente intendo esattamente quello che la parola suggerisce cioè non prendere mai nessuna informazione così com'è ma perché balla tutto ma ragionare sempre e partire da un presupposto di non ci credo finché non vedo coi miei occhi ok questa è la è alla base del 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 pensiero critico tra i principi cardine dello scetticismo ci sta il fondarsi sulle evidenze essere data driven quindi secondo me funziona così aspetta che dati hai a supporto c'è un fantastico critical thinking cheat sheet che abbastanza famoso interessante non è che sia omnicomprensivo però questo è un buon punto di partenza quando si analizzano informazioni che ci arrivano addosso ok cioè questo è diviso tra chi cosa dove quando perché come ok quindi chi è che beneficia da questa informazione a chi fa male chi è che prende decisioni su questa informazione sono tutte domande molto interessanti adesso non è come devi imparare la memoria dargli un'occhiata leggere e dire ah interessante è un pezzo di informazione chi altro a chi altro ha sentito parlarne ad esempio oppure chi è che è esperto in materia come posso arricchire informazioni arricchire la mia conoscenza su un argomento una volta che l'ho sentito per la prima volta invece di farmi un'opinione sono domande che aiutano a a raccogliere le informazioni e fare il lavoro necessario per avere un'opinione che io ho condizionato un articolo la volta precedente trovo che siano interessanti anche se un po' estreme ed esagerate però questo qui è un buon punto di partenza per farsi domande quando si percepisce un pezzo di informazione ovviamente informazioni ce le abbiamo noi di varia natura abbiamo informazioni che ci arrivano addosso e informazioni che scegliamo noi di approfondire io sono su questo qui molto 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 intenzionale io sì ogni tanto scrollo twitter scrollo facebook o vado per sbaglio su qualche sito di notizie ma proprio per errore finisco su motivi storici seguo Repubblica ma ormai fa veramente schifo non ho una buona alternativa forse ansa non lo so per notizie italiane notizie internazionali o altre fonti new york times per esempio diciamo che però evito il più possibile di essere passivo di andare su una sorgente e vedere che notizie mi propone ok abbiamo tantissime 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 notizie che ci arrivano addosso cerco di essere molto più attivo quindi la prima parte che vediamo a cui sono molto interessato è il concetto di input la prima di questo qui perché qual è il senso di costruire una propria conoscenza perché perché non viviamo più leggeri più o le chi se ne frega come va va non voglio mettermi lì a ragionare a leggere io non leggo più niente come diceva Duccio in Boris smetti di leggere qual è il motivo a mio avviso vedo un paio di motivi interessantissimi come sempre il primo è l'autodifesa come ho detto siamo bombardati meglio costruirci una barriera altrimenti siamo veramente abbiamo completamente abdicato sul libero arbitrio e siamo completamente allo sbando questo non va bene vedo gente che si muove qua sopra facciamo che al momento per evitare spam io mi metto a fare viewing così non vedo chi se qualcuno fa cose brutte ok arrivo non scrivete parolacce non commentate male se no siamo live devo dimenticare ricordarmi di levare i commenti mentre sono live perché chissà dicevo autodifesa prima di tutto autodifesa poi il concetto di literacy io non so bene come si come si traduca in italiano literacy literacy è conoscenza essere non lo so come si traduce in italiano literacy però questa questa bellissima definizione che ho trovato in realtà è una definizione questo qui è una è una è una è una quote di un blogger che si chiama Blas Moros che quota un pezzo di un libro di Venkatesh Rao che ho citato l'altra volta che si chiama The Gervet Principle e libro ma c'è anche una serie sul web c'è anche una serie di articoli che si chiama The Gervet Principle che straconsiglio straconsiglio che parlano della di come funziona il lavoro delle categorie tra i manager è una presa in giro del mondo del lavoro molto psicologicamente fondata e in questa in questo articolo c'è la città questa citazione mi piace tantissimo literacy of any sort gives you the power to recognize and label things that they literally can only ignore as noise feds and bullshit questa definizione io la leggo così leggo che essere letterati chiamiamolo essere literate non so tradurlo essere letterati essere non è saggi in realtà è avere conoscenza diciamo così avere conoscenza ti permette di riconoscere segnale attraverso il noise dove gli altri vedono noise tu vedi segnale e dove vedi segnale vedi opportunità puoi sfruttarlo poi lì crei crei lì crei valore e questo è fantastico cioè immaginate non lo so indigeni precolombiani che gli arriva un cristoforo colombo gli dice guarda sto specchietto mi dai quelle pepite gialle che sono carine per l'indigeno la pepita gialla è noise è un sasso giallo ok tieni invece quello è oro e l'oro lo puoi vedere se sei literate riguardo il fatto che quello lì sia prezioso se io vado a vedere una mostra di quadri con un mio carissimo amico architetto che ogni tanto compare anche qui e io vedo solo croste non ho conoscenza non vedo i quadri e vedo delle croste vedo una roba che mi un quadro che mi piace però non sono molto literate a riguardo quindi vedo solo monnezza quindi se magari finiamo a casa di mia nonna e c'è un picasso io non me ne accorgo non lo so per me quello è noise lo sto per buttare tieni lo vuoi a un euro il mio amico che è literate a riguardo dice oh opportunità io sono io ho conoscenza questo non ce l'ha ho ho un'opportunità lì posso creare quindi per me la literacy cioè il 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 sapere forse sapere il sapere dà questo vantaggio incredibile è una edge è l'unico edge che c'è rimasto probabilmente in un mondo a velocità rapida e con conoscenze facilmente acquisibili skillarsi e diventare bravo a far qualcosa e diventare e conoscere molto su un ambiente ci dà quell'edge che che altri potrebbero non avere ok vediamo se c'è qualche commento vedo troppi commenti troppi commenti allora sì molti me ne parlano molti me ne parlano in effetti in effetti sì vedo che per tutti c'è una certa c'è una certa convergenza sul fatto che il post dovrebbe essere migliore sì non è che vedo spesso giornali italiani francamente ogni volta che ci capito riascolto i soliti discorsi dei politici che parlano del vaccino sì 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 alfabetizzazione ok mi piace mi piace di più mi piace di più ok spero di non annoiarvi ragazzi ora andiamo sulle cose interessanti parlo anche di come io agisco adesso sto per fare un po' per incasellare quello che voglio dire in un framework va bene quindi quindi perché voglio farmi una coscienza perché io io personalmente leggo leggo tanto leggo leggo tanto leggo tanto meno libri di quelli che vorrei adesso ho appena iniziato Zdang un bel mattone è bellissimo ragazzi è bellissimo di Elephant in the Brain leggo anche molti articoli online vedo tantissimi video un po' troppi video su YouTube di qualità però un po' troppi ascolto podcast e cerco sempre di estrarre informazioni e metterle in un sistema perché devo fare retention altrimenti mi passo attraverso altrimenti non è studio ma è entertainment e c'è spazio anche per quello però io voglio studiare voglio voglio aumentare la mia conoscenza in più ambiti possibili come diceva anche Roberto Mercadini in un video che mi è piaciuto tantissimo che penso di aver citato di qualche parte forse la volta precedente o forse qua sotto sono citati cioè lui non accetto Roberto dice non accetto che in tanti ambiti del sapere non ne so nulla quindi si è preso un libro di medicina di anatomia per studiare di anatomia io non sto a quel livello diciamo che però però diciamo che anch'io non accetto di non sapere nulla in tantissimi argomenti voglio almeno un po' di autodifesa intellettuale voglio avercela su quasi tutto e meglio ancora se vado oltre quello step lì su argomenti dello scibile che sono in grado di gestire ok aspetta mi son perso eccomi qui perfetto ovviamente poi lo step l'obiettivo principale è andare oltre la conoscenza sapere sapere poi cosa farcene di questa conoscenza oltre a riconoscere segnale dove gli altri vedono noise anche riuscire a utilizzare la conoscenza in modo adeguato per trasformarla in quella che viene chiamata saggezza ok quindi specialmente nell'ambito del decision making quindi come posso utilizzare le informazioni che ho acquisito la conoscenza che mi sono fatto i modelli che ho fatto del mondo per prendere decisioni un po' più intelligenti rispetto a quelle che prenderei se fossi illiterate va bene trovo che tutti facciamo tantissime cose a caso e siamo guidati molto anche dalla fortuna però in questo 100% di caso riuscire a prendere un 20-30% di scelte essere coerenti essere indirizzate andare in una direzione fanno la differenza tra un fallimento e un successo anche le persone di successo fanno il 70% delle cose a caso o sbagliate o palesemente sbagliate però essere coerenti con 20-30-40-50% delle loro reazioni andare in una direzione intenzionale skillarsi in un ambito sfruttare queste skill essere fortunati costruirsi la loro fortuna fanno la differenza completa non vi immaginate che chi ha successo è uno che è perfetto al 100% tutti fanno cazzate di ogni tipo però chi le fa di default chi ragiona sempre short term chi fa cazzate di default non va da nessuna parte chi invece riesce a rendere un po' coerente le cazzate che fa può arrivare un po' ovunque l'obiettivo mio personale da 90enne voglio essere la persona più saggia del mondo chissà come si fa non so se non so se vale la pena questo bellissimo articolo di Paul Graham un po' smonta giù smonta giù il concetto di saggezza e e allora c'è un bel twist finale non ve lo spoiler se volete leggetelo è un cavolavoro ma ovviamente sul concetto di saggezza sono sono state scritte miliardi 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 di cose la filosofia più o meno lavora quasi esclusivamente su quello quindi ci sarà chi ne sa tonnellate di più arriverò lì con calma ok la macchina per per costruire questo è l'obiettivo no? costruire una macchina chiamata me Giorgio che acquisisce conoscenza la sfrutta la mette in pratica e piano piano trasforma questa conoscenza in saggezza qui scatterebbe la citazione di Michele Laporta fatto da Guzzanti non so in che trasmissione era la conoscenza la saggezza forse altrimenti lui muore ma questo è solo per chi ha dai 35 anni in su prima di muoverci sulle cose più cool fammi rispondere a qualche commento ok si condivido condivido parzialmente Giuseppe capacità di acquisire 9 skill in 18 mesi è più importante di tutto quello che ho studiato in 15 anni però ti dico che la mia carriera in Google è stato un acquisire 9 skill ogni 3 mesi e a un certo punto acquisire skill solo per acquisire skill perde spessore perde spessore io ho passato 15 anni a scriver codice in C++ ero orientato master del mio linguaggio dopo in Google ho imparato 20 linguaggi diversi non lo so si è importantissimo oggi potrei saltare su un progetto nuovo e da zero probabilmente la mia learning curve è molto più bassa perché sono orientato una macchina allenata ad imparare cose nuove però ci deve essere anche un qualcosa dietro di passione ci deve essere un qualcosa dietro di un obiettivo di un qualche master in mio opinion non vedo non vedo semplicemente diventare una macchina che apprende velocemente di per sé potrebbe non essere l'obiettivo bene bene ho delle domande che impatto ha avuto su di me design in your life molto 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 profondo l'ultimo libro che ho letto l'ho letto in 3 mesi perché l'ho letto ho fatto gli esercizi e sta avendo un impatto profondo perché sto riprogettando la mia vita mi sono fatto le domande ho fatto gli odysse i plans e in questo momento sento di star ridisegnando la mia vita quindi ha avuto un impatto molto profondo e lo consiglio a chiunque sia in fase di crisi o in fase di inizio carriera anche soltanto per coloro che dicono ah non trovo lavoro come si trova lavoro che consigli mi dai ci sta un bellissimo capitolo che si chiama how to not get a job ah io li sottolineo i libri li violento i libri li tratto malissimo faccio quella che si chiama marginalia cercate keyword marginalia e quel capitolo e quello successivo sul networking per me sono delle gemme quindi se non avete letto il libro trovate molto online anche gratis però è un libro che secondo me chi sta in crisi mistica o chi deve iniziare una carriera vai capolavoro la soviet wave capolavoro 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 dove sta qui io ormai ormai è una roba incredibile la mia musica di default di ascolto in questo momento è soviet wave vabbè qui è lento da caricare mentre mentre siamo in live altro paio di di commenti poi andiamo avanti ah magari magari penso che sia la persona con cui vuole collaborare più volentieri ovviamente i suoi due video i suoi due video sulla sua storia la parte 1 e la parte 2 che parlano di quando lui di quando lui era software engineer e c'è un pezzo di quel video in cui lui racconta che il suo amico da Sikon Valley arrivava gli parlava in termini ingegnerissimi lui non capiva più niente e sentiva che era un'altra persona le ho visti 10 volte i video sulla sua storia capolavoro lo sento veramente molto vicino allora ok domanda pertinente dove e come raccogli le informazioni le nozioni importanti che acquisisco un tempo usavo quasi esclusivamente google drive un tempo vedete faccio documenti così come questo qui che sto condividendo però non aiuta il network thought quindi non aiuta l'interconnettività ad oggi uso da un anno e da gennaio dell'anno scorso utilizzo romresearch dopo ve lo credo che forse non in questa live ma la prossima che facciamo sull'argomento vi parlo di tutto il mio sistema tutto come io agisco cioè come faccio io cosa uso per filtrare gli input cosa uso per accumulare conoscenza cosa uso per produrre output trovo che sia molto di valore io uso romresearch vediamo un po' ma non è gratis costa pure neanche pochissimo io ho evangelizzato il mio istituto di ricerca e alla fine me l'hanno me l'hanno pagato loro ho 5 anni di believer plan quindi sono coperto per 5 anni questo è il mio database che condivido pubblicamente per cui non scrivo qua ogni giorno sul mio database privato scrivo ogni giorno anche cosa faccio che incontro e è una roba una goduria se io adesso dico fatta live su youtube e magari youtube lo indico tra square bracket questo diventa a sua volta una pagina ok? e vedo le reverse link quindi se io non so se io oggi dico non lo so ho letto ho letto designing your life intanto ce l'ho anche già perché anche in questo qui lo leggo l'ho parlato vado sul libro e trovo tutte le referenze a questo libro in realtà poi del libro design your life ho anche estratto note e alcuni argomenti aggiungo mie note mie riflessioni questo è condiviso pubblicamente lo trovate se andate sul mio blog e cercare design your life questi sono i primi due i primi due capitoli idee mie note anche il link ad esempio ah questo lo trovo molto molto simile a quest'altro concetto quest'altro concetto di per sé è un'altra pagina è una goduria oppure taggo argomenti farò una live apposta su come io utilizzo home research tipo non so questo per me parla di curiosità perfetto curiosity di per sé è una pagina che ha vari riferimenti in questo in questo da me sono due riferimenti nel mio personale ne ha un miliardo questo pubblico prima o poi lo arricchirò però utilizzo home research c'è un'alternativa free che dicono essere molto molto buona infatti la vorrei provare perché può darsi un domani switcherò a questo quando se e quando non vorrò pagare il fee a home research e si chiama obsidian molti la usano e ne sono innamorati obsidian è principalmente un tool di di personal knowledge management e come vedete è un argomento che in teoria sta un po' più giù ok questo pkm personal knowledge management mentre home research fa anche altro fa anche productivity fa journaling si può farlo anche con obsidian ma non è la stessa cosa home research gestisce anche un po' il concetto di crm come si chiama customer oppure gestione gente fa tante cose mi piace moltissimo query script bla 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 è molto figo abbiamo ancora un paio di domande e poi ci muoviamo si vedo che me lo chiedete in molti ora ci arriveremo in fra qualche live ho detto solo che uso home research via sui libri in realtà mi sento un po' un po' in colpa ne riesco a leggere 5-6 l'anno non di più se mi capita il libro di non saggio il libro di fiction che mi intrippa me lo leggo in due giorni leggo molto di più cose online articoli di loro blog canali youtube quello molto di più trovo che ormai la l'acquisizione di conoscenza lineare che ti dà un libro sono in conflitto sono in conflitto ti trovo anche articoli che ti dicono come sia difficile ad oggi e come non sia garantito che la miglior modo per acquisire sia leggere libri c'è bellissimo bellissimo ma bellissimo proprio bellissimo un altro personaggio che vi consiglio è Andy Matushak e ha fatto Andy Matushak ha delle note che sono una goduria e books don't work why books don't work è molto controversial come argomento ma Andy ha scritto degli essay su sull'apprendimento sulla conoscenza che sono meravigliosi e questo spiega del perché perché può darsi che la lettura di libri a me mi ha trovato un po' un po' in non necessariamente concorde perché smonta un po' di principi fondamentali di come noi impariamo e ve lo consiglio Andy Matushak why books don't work detto questo ovviamente dico solo per giustificarmi perché sto leggendo pochi libri però mi sento sempre più in difficoltà nel leggere libri ultimamente mi sento che leggo un libro e la mente va ad altro leggo una parola e vorrei far ricerche connesse ci metto molto tempo a leggere un libro molto molto tempo e talvolta non andermi fatto così dovrei riuscire a spegnere il cervello concentrarmi sul libro leggere il libro io leggo ancora libri cartacei ho provato a usare kindle non ho avuto grande successo una cosa che non ho mai provato a fare sono gli audiobooks so che so che chiunque li usa dice che che se ne leggono si legge molto di più non ho idea di quanta possa essere la retention delle cose che leggi sugli audiobook non lo so potrei provare potrei sperimentare potrei sperimentare sono un po' pigro in questo qui diciamo che però la risposta è libri ne leggo non troppi ma articoli altre forme altre forme di di immagazzinamento di informazione ne faccio fin troppe sì assolutamente 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 l'errore che si fa che si può fare quando si entra nello spazio platonico delle idee quando si entra nello spazio dell'intangibile è che si trascura un po' il corpo si considera il corpo come un oggetto che serve a trasportare la testa invece no siamo purtroppo per fortuna abbiamo ancora un cervello che si è evoluto in milioni di anni parlo da quando esiste l'homo che ha altri le droghe che emette sono vibrano su altre frequenze per cui per cui vai a correre fare passeggiata da endorfine ossitocina quindi diciamo che la sensazione di well being è molto più ampia del suo aspetto mentale anzi talvolta forse andare troppo sulla mente può essere quasi deleterio il problema è che sono cose che una volta che ci entri non è che ne puoi uscire così no? quando ti dicono che sono molto più felici i bambini che credono in Babbo Natale che quelli che non ci credono però una volta che sai che non esiste non è che puoi dire aspetta se però ci credessi sarei più felice quindi ora ci credo apposta è un po' come la religione argomenti divisivi paio di domande paio di domande ancora si fa che Masterclass si mi hanno regalato un mio caro amico mi ha regalato l'abbonamento a Masterclass ho fatto un paio di cose sembra carino non trovo il tempo non mi sembrano corsi in profondità però è figo vedere Serena Williams che ti insegna a giocare a tennis o sentire parlare aspetta chi è Daniel Negrano di poker o Dan Brown su come si scrive un libro sono molto leggeri però allora non è Notion Rome non è Notion è un po' diverso Notion è più orientato al workflow Rome è più orientato al spontaneous cioè non c'è gerarchia ogni nota è sparsa e le connessioni le crei perché parli di argomenti e li ritaghi e le tag creano connessioni crei dei backlink che sono fantastici è un po' diverso Notion è più orientato alla produttività ok bene top top i video sulla storia dei mercatini top go the lesher back quanto ci ho messo a leggerlo penso tipo due anni non leggevo solo quello io adesso non lo faccio più una volta leggevo dieci libri in parallelo perché ogni giorno dico ok adesso quello che legge è questo qui leggevo venti pagine sospendevo un altro go the lesher back ci ho messo due anni perché perché è tosto è proprio tosto non penso di averlo afferrato completamente l'ho letto più di dieci anni fa credo era un'altra persona oggi è che ho una coda di lettura infinita per cui sta lì come gli altri libri a ricordarmi le cose che ancora non so conoscete il concetto di anti-library di Umberto Eco è molto interessante Umberto Eco diceva lui aveva una libreria con sembra diecimila libri e spesso andarono a intervistarlo dicevano ma maestro li ha letti tutti e lui diceva ma sei pazzo come faccio a leggere diecimila libri poi stanno qui a ricordarmi le cose che ancora non so quindi io quando trovo un libro che mi piace lo compro lo metto lì non lo leggo non sempre lo leggo e mi ricordo quanto ancora non ne so su tantissimi argomenti audio libri durante la camminata sì a sotto podcast li trovo migliori perché magari in un'ora un'ora e mezza di camminata riesco a consumare un podcast un libro che richiede dieci ore di ascolto penso possa andare bene per fiction non lo so ma proverò 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 sconsiglio sì esatto è un po' il mio pensiero ok romresist è solo online ma su harddisk in giro per il mondo è non cifrato non real no encryption la fanno assolutamente puoi fare dei backup locali però sì è vero che se se loro vanno down tu li trovi solo con insieme di di markdown file sul tuo computer e non c'è un software stand alone questo è vero è un po' è un po' una critica principale sì allora perfetto bene andiamo avanti ok input input il primo grande filtro per per costruirsi una un modelli mentali interessanti è filtrare gli input come faccio io come ho detto cerco di essere molto intenzionale ho messo tre articoli qui che sono interessanti il primo è forse il cavo stipide del concetto di digital garden si chiama the garden and the stream è un articolone un po' lungo come tutti quelli che condivido io difficilmente vi condivido l'articolino da 30 secondi ok che è un è un transcript di un talk che ha fatto Mike Cofield nel 2015 e analizza il concetto di 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 come avvengono di due diversi modi di consumare due diversi modi di consumare di produrre e consumare informazioni sul web una parliamo adesso di web al momento per gli input una che è quella a stream lo stream che è il flusso di informazioni che abbiamo attorno su cui sono basate quasi tutte le app oggi oggi tutte le app sono basate su bombardamento e continuo presente ok quindi anche youtube ti mostra i video di oggi facebook twitter è un continuo presente tutti i vari news stream di qualunque tipo anche i blog anche i blog sono un reverse chronological order quindi il nuovo sta in cima il vecchio è passato non mi è mai piaciuto tanto questo questo modello qua a me piace sempre costruire cose più evergreen immagina wikipedia wikipedia non so che mi piace wikipedia sta lì non c'è un presente un passato non c'è un flusso non c'è uno stream ma c'è un un mondo che cresce wikipedia è un esempio di digital garden quindi definisce non so se Mike Coffield l'ha definiti o forse qualcuno ancora prima in realtà no l'ha definiti assolutamente qualcuno prima anche agli albori di internet il concetto di digital garden cioè di spazi digitali cresciuti un po' come giardino il giardino tu te lo coltivi gli dai l'acqua fa crescere delle piante alcune parti vanno in una direzione altre in un'altra e continui a crescere ritorni sugli articoli passati e dei migliori un po' come wikipedia wikipedia articoli vengono migliorati editati cambiano nel tempo nulla è passato nulla è futuro nulla è presente è tutto un continuo è tutto un è sempre vivo ok quindi il mio approccio il mio approccio è questo qui è cercare cercare informazioni che siano che vadano fuori dallo stream è ovvio che un minimo mi interessa anche a me l'attualità è ovvio che mi interessa cosa sta accadendo nel mondo anche solo per sapere non lo so per anche informazioni importanti però quelle sono cose che relego a una percentuale del mio cervello che ok acquisisce un'informazione del tipo c'è una guerra da questa parte del mondo va bene ok al massimo mi segno mi segno un bookmark mentale di saperne di più e saperne di più significa andare a cercare intenzionalmente altre sorgenti non accontentarmi della notizia che ho scrollato che mi è stata riportata da qualcuno con delle loro idee con un punto di vista voglio ovviamente andare su varie su varie voglio attivare i miei filtri i miei modelli mentali su cui andiamo dopo sulla input selection io ho messo varie varie traits varie caratteristiche che cerco intanto intenzionalità quindi voglio io cercare delle informazioni non mi arrivano addosso ma io dico mi interessa questo argomento perché l'ho letto da altre parti voglio approfondire sono talmente ricco di cose che ho dei bookmark mentali o anche non mentali anche proprio fisici che voglio approfondire che non cerco la notizia nuova del cos'è successo a non lo so alle Kardashian non faccio gossip non mi frega niente assolutamente non mi frega niente quindi intenzionale nella input selection altri aspetti importanti sono quantitativi cioè come dire ho un problema ho un problema che sono così curioso in tanti ambiti che ho troppe sorgenti di input come detto sono intenzionale non cerco il nuovo però mi sottoscrivo ad esempio alcune sorgenti dei canali youtube dei blog ho un elenco di libri che mi interessano mi sottoscrivo a dei podcast quindi se vogliamo la mia inbox intesa come come luogo in cui convergono tutte le sorgenti di input è molto 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 ampia ogni giorno ci sono tanti articoli nuovi tanti video nuovi tanti podcast episodi di podcast nuovi nel mondo che mi interessano quindi gestire la quantità è molto importante non abbiamo tempo infinito né attenzione infinita per cui questo è un problema e al momento non so neanche bene come gestirlo la quality prima di vedere il kind quality significa che nel tempo ho messo molte molte energie a ripulire le mie input quindi seguo n persone quando dico seguo intendo vari tool ad esempio seguire sui social network twitter penso che sia uno dei posti migliori per seguire gente interessante è un tool di stream non è un tool di garden però ok spesso trovi trovi pensieri interessanti trovi link interessanti che possono arricchire la conoscenza però è un tool di streaming cioè un tool in cui c'è un continuo presente e ciò che è vecchio è già finito quindi è un po' anche lì c'è che deve essere un po' intenzionale su twitter magari non so vedo non vedo per un po' che scrive naval ravigant vado sul suo account e vedo cosa ha fatto ultimamente quindi essere intenzionali però nei tool di streaming è un po' difficile quindi come pulisco il mio input ho detto uso twitter come per lo trovo uno dei modi più interessanti per essere aggiornati e avere pensieri di alta qualità velocemente digestibili e link interessanti non uso più ormai facebook altri social media faccio difficoltà uso youtube molto quindi su youtube sono subscribed a tantissimi canali interessanti e il mio modo che consumo youtube non vado sulla home non vado su trending vado su subscriptions io mi sottoscrivo a canali che mi interessano e la mia home page di youtube è subscriptions il tab di ciò a cui sono iscritto quindi intenzionale non metto mai notifiche questa è una cosa che uccido assolutamente voglio il mio telefono è silenzioso le notifiche sono praticamente zero solo intenzionale voglio essere più possibile intenzionale quindi quando voglio vedere chi mi ha sito su whatsapp vado su whatsapp e vedo chi mi ha scritto quando voglio vedere cosa è stato pubblicato su youtube oggi vado su youtube e vedo cosa è uscito oggi niente notifiche niente 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 disturbi alla mia attenzione io intenzionalmente vado su un canale e vedo cosa è uscito fuori ovviamente c'è un altro step poi vado su un canale vado su youtube non su un canale vado sulla pagina delle subscriptions e vedo che sono usciti dieci video di creators che mi interessano ok perfetto al volo vedo i due o tre che mi possono interessare e subito li segno come watch later quasi mai li vedo appena escono le cose non sono proprio il massimo per le live quindi col mio criterio oggi non ci sarebbe nessuno vediamo un po' se vi ho cacciato tutti via siete una settantina un'ottantina quindi non state facendo come faccio io io non quasi mai vedo un video appena esce c'è un video che mi interessa dico ok watch later pam 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 watch later la mia watch later ormai ha 300 video alcuni dopo un po' devo trovare una politica di mandarli in deprecation cioè ok questo tre mesi che in watch later non lo vedrò mai addio quindi poi cosa faccio quando la sera spesso la sera magari è più leggero e magari mia moglie si è addormentata con mia figlia e sto da solo faccio cose leggere e mi metto sul divano e chromecast in televisione oppure vengo qua nella mia tana e e vado su watch later e scelgo quali di vedere tra quelli che ho salvato cercando di gestire di tenere la watch later contenuta ma cresce esplode poi ovviamente qualche volta mentre sto vedendo un video un occhio ai raccomandati ai suggeriti glielo do raramente trovo cose che mi interessano quindi questo è il modo con cui consumo lo stesso lo faccio con i blog con i blog ho un feed reader uso feedly e quindi mi arrivano quello però ultimamente lo guardo un po' di meno quando vado a vederlo ogni settimana trovo 100 articoli trovo 100 articoli e dico ok scorriamoli velocemente questi 3-4 mi interessano read later in realtà in genere li apro li metto come bookmark bookmark su chrome e poi dopo ci torno dopo ogni tanto apro l'elenco di articoli che voglio leggere e me li leggo spesso faccio di peggio spesso mi tengo dei tab aperti su chrome di articoli di articoli che voglio leggere urgentemente e ho tipo 100 tab aperti su chrome sul mio account personale quindi quelli che stanno ormai nella cache di secondo livello in read later ne ho penso 4.000 diciamo che non mi annoio non mi annoio quindi e per i podcast roba simile escono i podcast li salvo in list and later uso google podcast lo trovo abbastanza ok per cui va bene sono un po' troppo google dipendente altronde old habits die hard quindi io ho un flusso di input che gestisco in maniera intenzionale le cose che mi interessano quasi mai le ascolto live direttamente quando escono ma le salvo per dopo quando ho voglia di mettermi lì ad ascoltare o a leggere o a fare cose diciamo a tempo che dedico al learning mi metto intenzionalmente a vedere tra le cose salvate cosa voglio ascoltare o leggere o vedere questo è più o meno il mio algoritmo di input questo però è un algoritmo di exploitation qual è la parte di exploration cioè io ho i canali che seguo le persone che seguo gli account twitter che seguo i podcast che seguo sì ma quando è che entra qualcosa di nuovo e quando è che esce qualcosa di vecchio su quello ci sto lavorando roba nuova che entra è abbastanza semplice in genere quando qualcuno che io stimo mi suggerisce una risorsa la testo da un'occhiata se più di una persona che seguo suggerisce la stessa risorsa a quel punto è quasi automatico che entra nel mio stream la guardo la seguo per un po' leggo gli ultimi 3-4 articoli ascolto un podcast vedo cosa ho chiesto a prodotto se mi interessa la aggiungo se no magari la elimino e ogni tanto una volta ogni 3 mesi non è così non sono così strict però ogni tanto quando dico cazzo com'è possibile che ho 240 articoli su Feedly in una settimana non ce la farò mai allora lì dico facciamo così se di questa sorgente gli ultimi articoli sono sempre schippati mi spiace ma devo lasciarlo andare I have to let it go significa che anche cose di grande qualità ogni tanto devo lasciarle andare e non riesco a seguirle e quindi addio meglio mollarle un'altra cosa che non faccio quasi mai è sottoscrivermi le mani in list il principio è sempre lo stesso non voglio gente che gestisce la mia attention la mia attenzione è mia e me la gestisco io quindi hai fatto un nuovo post hai pubblicato qualcosa perfetto se hai un feed RSS sei nel mio Feedly e quindi ti noterò non mi mandare spam non mi mandare email ho già troppi input non ce la faccio con questo sistema di gestione dell'input al momento mi trovo che sono ancora overwhelmed ho ancora troppo input rispetto al tempo che ho per gestirlo e quindi faccio dei tagli e spesso mi frustro perché dico ho questi 130 tab aperti su Chrome alcuni sono veramente interessanti come faccio a non leggere oggi la bellissima guida che è uscita due giorni fa ma proprio bella 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 su deliberate practice vediamo un po' dove sta cioè come faccio a non a non allocare i i 38 minuti suggeriti per leggere le ultimate deliberate practice guide su farnham street che è forse il blog più figo dell'universo come faccio come faccio però è è un tab aperto su Chrome personale devo leggerlo con il giusto interesse e il giusto impegno perché penso che la deliberate practice sia una delle cose più fighe che esiste però sta lì con altri mille articoli e su questa mi commetto a leggerlo però rapidamente perché è un argomento che mi interessa tantissimo però ecco questa è un po' la mia vita nella gestione degli input rubo tempo al sonno leggo tantissimo leggo un quarto delle cose che vorrei leggere e e via ovviamente quando leggo di solito non mi limito al ok ho letto un articolo ciao di una discreta percentuale di articoli che leggo fai un 20% quelli che meritano di solito ne estraggo note cioè dico oh wow fighissimo questo passaggio aspetta no questo qui l'ho visto mi si connette con qualcosa che ho letto da un'altra parte sembra esattamente quello che ha detto Navallo in quest'altro articolo oppure questo è in conflitto con un'altra cosa che ho letto da una persona che stimo interessante voglio elaborare di più su questo argomento e quindi estraggo note le butto su ROM taggo argomenti taggo persone che non è che gli arrivano notifiche le persone però se poi cerco la persona la trovo trovo gli articoli in cui menziono questa persona o questo articolo o questo argomento e ogni tanto ogni tanto poco ultimamente vado anche random sul mio database sul ROM a cercare argomenti e dire vediamo un po' gli ultimi articoli che parlano dei mental model e trovo cose che ho letto cose che ho studiato e questo fa anche da base se vogliamo al post che pubblico mensilmente il mio ultimo post sul blog è quello che faccio mensilmente vorrei fare la cadenza maggiore di mensile ma il mio ultimo post si chiama monthly learning journal tutte le cose che io leggo ascolto interagisco con poi le accumulo scrivo note e le pubblico sul mio blog e do anche accesso al database sul ROM ad esempio l'ultimo questo qua che ho pubblicato lunedì ci trovi ci trovate se volete tutto il contenuto che c'è nel blog qui su ROM col mio voto e networked vuol dire che se oh natelison bellissimo questo articolo che altro ho scritto che altro ho letto di nat ah figo ho parlato di questi tre articoli qua interessante è vero è vero oppure non lo so bello questo su creator town mencionato solo una volta posso filtrare è un database un database di conoscenza oppure ah bello questo articolo sugli nft che cos'altro ho letto sugli nft ok magari qui nella pagina posso anche prendere note scrivere i miei pensieri e integrarli con nuova conoscenza che arriva questo è quello che più o meno faccio piccola parentesi vedo se avete qualche commento interessante ok allora ho ascoltato in i mattoni di taleb incamminata taleb 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 è tosto io sono non sono ancora riuscito a finirlo un libro di taleb ammetto che ho iniziato antifragile ma l'ho riniziato tre quattro volte trovo che sia difficile forse devo leggere in italiano perché in inglese trovo che sia un linguaggio molto elaborato però i suoi secondo me alcuni suoi concetti specialmente quelli che riguardano black swan e antifragile per me sono una roba i concetti base li ho letti appresi e metabolizzati tramite altri canali ho letto recensioni ho letto dei book reviews non sono riuscito a finire antifragile vorrei riprenderlo poi lui è molto sulla probabilità a me piace tantissimo la probabilità allora sì miro l'ho sentito nominare non l'ho mai provato non l'ho mai sentito nominare comunque in ogni caso stanno lasciando miliardi di opzioni in questo mondo veramente miliardi 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 di app per connettere il pensiero per prendere appunti anche Evernote va bene il problema quello che Roma ha portato di nuovo è è l'assenza di gerarchia cioè non c'è una non è un albero hai una hai un caos è un caos bello è un caos che fa emergere cose e Obsidian fa lo stesso Miro non lo conosco so che era buono per prendere appunti non so se non so se fa il non so se ti aiuta anche questo qui no non ascolto il podcast di Lex Friedman ecco questo input se altre altre persone me lo segnalano da altri canali diversi lo prendo in considerazione bellissimo non lo trovo snob twitter in realtà lo trovo veramente interessante interessante sta diventando ho visto anche video su youtube su come fare come costruirsi un audience su twitter queste cose che poi diventano marketing che mi danno fastidio e sta diventando un po' una sorta di fortune cookie moderno cioè gente lancia quelle frasette da biscottini della fortuna che non dicono tutto non dicono niente sta diventando poco poco interessante però molti twitter thread mi piacciono molto i thread a me un twitter thread con 20 thread ha senso e in genere quelli interessanti li divoro però corre il rischio di diventare fortune cookie e basta un paio di cose sull'input prima di continuare a rispondere a queste domande parlo anche di diversity intendo dire va bene registrarsi va bene sottoscrivere input su cose che risuonano con noi ma ogni tanto bisogna prendere anche input che vengono fuori dalla propria echo chamber e la selezione di input è un qualcosa che deve evolvere nel tempo come ho detto nuova roba deve entrare ogni tanto vecchia roba va lasciata uscire e ogni tanto bisogna accogliere mutazioni genetiche non soltanto ascoltare chi è d'accordo questo credo che sia la base però io faccio difficoltà aggiungo ogni tanto qualcosa però tendo poi a essere abbastanza arrabbiato come dico sto perdendo la mia attenzione per ascoltare un terabbiattista no non vado in quella direzione ovviamente però qualcuno che ha visioni magari anche politiche opposte oppure controversia in qualche modo o che in genere tratta argomenti controversi quello ogni tanto ce lo butto dentro non sopravvivono a lungo di solito alla fine ritorno la mia echo chamber però ho andato un giro a qualche virus ce lo faccio fare dentro questa echo chamber ok allora se tutti fossimo hai ragione hai ragione sono una bruttissima persona io infatti non guardo quasi mai live quasi mai però se ci sono delle live interessanti mi resegno e me le riguardo dopo però vorrei commentare live adesso che commento live non ha senso quindi un po' sì forse su questo qui dovrei un po' cambiare vedevo le live di Shai di Breaking Italy quando le pubblicava live su YouTube adesso sta solo su Twitch le rivedo ma non le rivedo neanche più ormai non riesco a seguirle troppo non le eseguo più offline non le eseguo più offline diciamo non live registrate allora cosa ne pensi dell'istituzione universitaria sì oggi si ne potrebbe fare a meno solo se sei già laureato quindi se ti prendi una laurea puoi arrivi a scoprire come fare a farne a meno di prenderti una laurea no nel senso che probabilmente sì probabilmente oggi una laurea è uno strumento di signaling di virtue signaling se non sapete che significa questo concetto di elephant in the brain è un modo tra nell'ospetto tra utility e signaling è molto vicino al signaling cioè è un modo per dire agli altri quanto sei figo o per dire al datore di lavoro questo è il mio status non è un modo necessariamente solo per apprendere nozioni o per costruirti una forma mentis dal punto di vista prettamente di acquisizione informazioni è brutto acquisizione informazioni di costruirti una conoscenza su un argomento probabilmente se ne potrebbe fare a meno l'istituto universitario ha altri vantaggi primo in termini di commitment che non 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 dimentichiamoci quanto è importante il commitment perché è uguale è uguale fare palestra da solo o avere un personal trainer però statisticamente se andiamo a vedere i numeri avere il personal trainer avere gli esami da fare è un commitment che può aiutare e secondo ha vantaggi in un punto di vista del networking e poi restano i vantaggi del signaling cioè del dire alla società ehi google vuoi assumermi c'è un bel pezzo di carta indipendentemente da quello che poi uno ha gli è rimasto di quel pezzo di carta però avere il pezzo di carta aiuta però sì al mio punto di vista oggi fanno un po' ridere le persone che vanno a prendersi la seconda laurea a 40 anni quello è fa molto ridere o a 50 o a 60 fa veramente ridere perché il valore è tutto signaling povero tra l'altro perché neanche vai a cercare lavoro a 60 anni perché ho preso la laurea cioè io oggi vorrei vorrei prendermi l'equivalente della laurea in filosofia però mi tiro giù dei piani di studio degli argomenti me li studio per conto mio faccio network ne parlo con gente saggia con gente che l'ha studiati non mi servono a fare gli esamini e prendere il voto e prendere il pezzo di carta quindi credo che le seconde lauree sopprono una roba da poveracci però la prima laurea a 20 anni non hai non hai niente di meglio da fare pensare che uno a 20 anni è in grado di costruirsi un percorso simile universitario da solo è un po' follia è meglio è meglio ancora affidarsi a questi sistemi qua sono anche praticamente gratis in Italia dico sempre un paio mi hanno criticato perché ho detto che sono gratis in Italia ragazzi sono gratis università in Italia ti costa tempo sì quello ok se quella è la critica se la critica al fatto che io dico che l'università è gratis in Italia è che in realtà costa 3 anni o 5 anni quello ok allora dico hai ragione costa 3 anni alto costo punto di vista economico quanto spendi cioè vai a chiedere agli americani quanto gli costa lavorarsi questo mi è stato già fatta questa domanda credo pensiero critico e religione che ne pensi io sono ah che bello parliamo di religione rischiamo che ormai abbiamo fatto solo input selection per oggi poi il resto lo tocchiamo ci vediamo 50 live su questo argomento spero di non distruggervi i testicoli dico oh pensiero critico e religione io nasco turbo ateo nel tempo ho smussato di molto le mie argomentazioni oggi sono mi definisco più agnostico sono vediamo non lo so non so cosa c'è e non e non e non e non metto la firma su su nulla sicuramente metto la firma contro le le cazzate che vengono dette dalle attuali religioni fatte dall'uomo pensate per l'uomo con in testa un uomo che fa così però è molto affascinante l'aspetto metafisico di tutto pensare siamo in una simulazione se stiamo 40 divinità che in realtà siamo un esperimento di un ragazzino divino di un mondo decidimensionale siamo un compito in classe e adesso voi bambini fate un universo e noi magari siamo il bambino un po' sbogliato che ha fatto il nostro universo e si diverte a lanciare fulmine e saette non lo so è divertente trovo che sia un po' limitante accontentarsi dei pacchetti preconfezionati delle religioni che conosciamo pacchetti preconfezionati molto improbabili estremamente improbabili e quindi credo che il fanatismo il convincerci no no aspetta su questo libro magico c'è scritto che la mela la costola il diluvio universale credere a questi libri magici che ci sia un una thought stop sign si chiama è bellissimo questo articolo vediamo se l'ho linkato se l'ho linkato stop sign non c'è qui allora se non l'ho linkato qui ve lo faccio vedere thought stop sign more to death more to death questo qua molto interessante è un altro bellissimo articolo questo blog io lo adoro questo blog more to death è entrato a gamba tesa un anno fa nel mio input e di questo leggo tutto leggo tutto è un blog che parla di psicologia filosofia è un è meraviglioso è meraviglioso molti articoli li ho linkati tante volte e questo qui è bellissimo ci racconta di come di come noi invece di tenere aperta l'uncertainty invece di dire ok accetto che ci sono queste 20-30 possibili opzioni decidiamo di mettere uno stop e dire no tutta questa parte qui non esiste e molto presto lo facciamo con fanatismi con religioni con altri aspetti che riguardano anche parla anche della scienza che spesso dice no no funziona così basta chiunque pensa diversamente non esiste è un bellissimo bellissimo è un bellissimo articolo questo questo blog tra l'altro fa degli articoli con anche un po' di animation e sono meravigliosi questo è lo straconsiglio more to death thought stop sign e trovo che la religione spesso gli argomenti religiosi delle persone estremamente religiose siano 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 dei stop sign di ok funziona così perché è stato ha stato dio per cui perché le farfalle volano perché ha deciso dio sì ok trovo che sia una una ragione di pigrizia mentale spesso però però trovo eccezioni estremamente interessanti nel mondo di varie religioni di persone con un'apertura mentale mostruosa che però restano fondamentalmente con qualcosa che a me disturba voler credere in qualche libro magico che mi disturba però trovo persone estremamente aperte estremamente interessanti quindi è un discorso un po' complicato allora eh questa è una roba molto da giovani velocizzare il video quando li guardo a 2.7 per come cavolo fai purtroppo sto facendo anch'io e io ho 1.3 per ho una ho una extension per chrome che si chiama adesso non ricordo la vedete anche qua sopra la vedete questa qui si chiama video speed controller e e e ti consente di moltiplicare di cambiare la velocità di di riproduzione di quasi tutto io a 1.3 ci arrivo già a 1.5 mi perdo delle cose a 2.7 ormai tu sei sei ai problemi te lo dico perché mi raccontava un un mio amico che ha figli ha figli 14 anni 15 anni due figli più o meno vicini due maschi e dice loro si annoiano a vedere qualunque cosa non possono vedere la televisione perché non possono mandarla più veloce che ormai leggono tutto ascoltano tutto a 2x 2.5x e quindi qualunque cosa abbia una velocità live real time li ammazza tu starei morendo qua perché sono lento dovrei parlare più veloce quindi aspetta che finisca e poi mi rivedi a 2.5x è troppo però un po' si a 1.3x ci sono arrivato anch'io e talvolta trovo che sia meglio alcuni canali che sono particolarmente lenti alcune sorgenti che sono lente si possono ascoltare anche un po' più veloce ho paura che diventi un addiction non lo consiglio l'attenzione è la via maestra per la produttività pensi che sia così? assolutamente sì assolutamente sì su questo argomento qua ci fanno battaglie personaggi che seguo tantissimo e che probabilmente stanno più giù in questo in questo ci arriveremo prima o poi sulla sulla tensione e in realtà vediamo un po' se da qualche parte sì ma penso di aver messo anche deep work il mondo del deep work e del digital minimalism cioè Cal Newport è una persona che io adoro vediamo Cal Newport questo questo qui ha un altro video che vi consiglio di Cal Newport per chi sta cercando di trovare un bilanzamento tra skillarsi appassionarsi questo tante volte l'ho citato è una specie di TED Talk non è un TED Talk è una conferenza di Adobe la 99U Conference la donna come lento a caricare pagine mentre sto streamando lui si chiama Cal Newport ha scritto diversi libri tra cui Deep Work tra cui questi due qua che ho spesso citato questo qua è sul veramente su come concentrarsi e come lavorare in maniera ininterrotta per grandi blocchi di tempo e questo qua è sulla deliberate practice ci arriveremo ai prossimi episodi ha scritto anche un libro sul digital minimalismo cioè su come su come ritenere l'attention in maniera più professionale ha fatto anche se non sbaglio TED ha fatto un TED su perché lui non ha i social media quit social media bellissimo bellissimo questo qui che parla appunto dell'attenzione è un TEDx di Cal Newport Cal Nevport straconsiglio lui è professore ordinario di computer science quindi è un informatico e però scrive libri diciamo che secondo me oggi scrive più libri di quanto fa il suo lavoro vero chi sono io per giudicare e quindi sì lui fa la battaglia su questo argomento che quello che sostiene Cal è che quello che avrà sempre più valore nel tempo sarà della adesso non ricordo le parole esatte però sarà produrre lavoro di qualità unico che gli altri non sanno fare bene come lo sa far tu grazie a lavoro deep cioè profondità e preservazione della preservation della tensione il che significa che tutto il resto verrà automatizzato essenzialmente oppure sarà ormai una commodity quindi quello che lui chiama shallow work dei lavori che puoi fare superficialmente avranno sempre meno valore lavori che puoi solo produrre grazie a una profondità che ti dà lo skillarti su qualcosa concentrarti e produrre output ragionato e di qualità nel mondo del knowledge working quello sarà sempre più raro e valuable e quindi l'attenzione è un killer a riguardo prendi un lavoro sì se sei se lavori nel mondo del knowledge working questo è il tuo lavoro per me è il mio lavoro è il mio lavoro è quello che è quello che Abraham Lincoln diceva se mi date sei ore per tagliare un albero me ne passerò cinque a filare l'ascia e questo tutto il mio studiare è un affilar continuamente l'ascia oggi mi sento di avere una profondità e una capacità di riconoscere segnale dove c'è rumore diversa da quasi tutti mi sento mi sento dei superpoteri mi sento che se decidessi di diventare un un neurochirurgo magari ok non voglio dire cazzate se però decidessi di approfondire un campo con il tool set che ho e con le capacità che ho di capire cose nuove penso che potrei in sei mesi diventare abbastanza esperto da poter essere utile a qualunque campo forse è arroganza non lo so però ad oggi ho cominciato a fare delle consulenze in ambito finanziario eppure non è il mio campo di apprendimento però con la passione dello studio approfondito con costruirmi una conoscenza ho creato una reputazione e capacità di produrre dell'output di valore che la gente è disposta a pagare c'è un concetto che a me piace tantissimo che è il concetto della permissionlessness che significa che oggi con i tool che abbiamo viviamo in un mondo in cui non dobbiamo chiedere permesso a nessuno vent'anni fa dovevi mandare curriculum a qualcuno e sperare che ti dava lavoro oggi sei in grado di fare cose senza chiedere permesso oggi vuoi apparire se io avessi voluto fare quello che sto facendo oggi vent'anni fa dovevo sperare che una televisione mi mandasse in onda oggi non devo chiedere permesso a nessuno se voglio scrivere pubblicare non devo chiedere permesso a nessuno mi creo un blog e vado se voglio proporre del lavoro voglio propormi come sono l'esperto di X se volete cercatemi e offritemi lavoro non devo chiedere permesso a nessuno posso farlo sto già facendo e questa è una figata e questo è solo possibile se sei in grado di produrre qualcosa che ha valore ed è riconosciuto e a mio avviso studiare continuamente crescere le proprie conoscenze è il prerequisito cioè questo è un lavoro questo è il lavoro ed è fighissimo skin in the game non l'ho letto è fuori dalla inserto dalla incerto quadrilogy non è considerata parte della incerto che sono i quattro libri di incerto di di Taleb sono bed of procrustis full by randomness quello vorrei leggerlo full by randomness anche se mi aspetto cosa trovare a me piace molto la probabilità anzi dall'altro penso che l'ho messo da parte parte che lo studio del calcolo probabilistico dovrebbe essere proprio la prima cosa che si insegna a matematica antifragile ed black swan quindi i quattro libri da incerto quelli mi affascino skin in the game secondo me è un tentativo di Taleb di andare fuori dalla da quello su cui lui era molto molto preparato ma secondo me è andato un po' fuori lo trovo ok si va bene ma bah tiddly wiki l'ho preso in considerazione quando ho fatto un po' di analisi su che personal su che personal wiki utilizzare ho anche analizzato vari vari wiki meccanismi però ho preferito ho preferito utilizzare tool non non wiki centrici perché volevo qualcosa che mi unificasse sia personal knowledge management che che productivity che journaling e quindi ho mollato sui tool di personal wiki si lo sai che ci ho pensato per la live su room research ma voglio fare dopo che ho provato obsidian e li confronterò si è una bellissima idea ottimo si live su room e obsidian farò una live in cui proprio gioco con room vi faccio vedere come funziona in maniera un po' utile non come ho fatto oggi ho fatto due cazzate e provo anche obsidian si assolutamente si bella idea grazie dei feroci allora ho finito l'anno scorso di studiare informatica non voglio fare l'unico se ci potrei fare è un po' è un po' difficile buttarla così è un po' difficile non so bene cosa suggerirti non voglio fare l'uni è un preconcetto per forza che potrei fare non so devi costruirti un curriculum alternativo se vuoi comunque studiare se no se vuoi fare altro nella vita ok ma se vuoi costruirti una conoscenza specifica devi costruirti un curriculum alternativo devi trovare qualcosa che ti dia delle skill che siano riconosciute se ti piace se ti piace il mondo dell'informatica non so la posso buttare lì puoi imparare qualche linguaggio di programmazione come si deve imparare le teorie di programmazione imparare quello che c'è da imparare a riguardo sviluppare un tuo progetto magari open source diventare qualcuno su stack overflow non lo so ci sono tecniche per crearti una reputazione e delle skill servono skill reputazione e network non è facile non è facile fatto in prima proprio a magari a vent'anni il podcast ok sono rimasto un po' indietro commentando cose che avete scritto mezz'ora fa era fighissimo ma shy non vuole fare le cose online aspetta che finisce la pandemia era bellissimo l'ho visti tutti e 7 e 8 gli episodi capolavori uno dopo l'altro bellissimo lui è bravissimo a fare domande è bellissimo aspetto che riparta ciao Giorgio hai utilizzato il processo che hai descritto anche quando hai iniziato con il movimento fire e il movimento di investimenti si più o meno si ero un po' più giovane non avevo ancora un sistema serio però più o meno si il concetto di fire non è che ho visto io difficilmente ho queste epifanie ad oggi ormai difficilmente ho letto il libro che mi ha cambiato la vita ormai ho letto un libro che si integra con gli altri miliardi di terabyte di memoria e mi cambia qualche bit è difficile che trovo cosa che mi rivoluziona il concetto di fire si era integrato bene si era integrato on top di qualcosa che già c'era sottostante io già ero frugale già risparmiavo già conoscevo il concetto di downshifting di di intentional living sognavo già di andare un domani vivere in co-housing avevo tanti aspetti della frugalità del minimalismo della gestione uguale dei soldi del tempo più importante dei soldi ce l'avevo già dentro quindi fire ha soltanto dato una struttura più seria a questo che avevo già in mente quindi mi ha cambiato la vita no ha preso 5 o 6 palline sparse che avevo e le ha raggruppate dentro lo stesso basket ho saputo dagli un nome ho saputo così basket che poi dopo anni che avevo preso come ok sta roba qui è solida sta su da sola adesso la sto smontando un pezzo alla volta non sono più convinto che il fire sia la soluzione poi ne parleremo però questo è così anche investimenti sì ho ascoltato e pensato cente volte per andare a agire ho affinato la mia lama per 5 ore per andare a tagliare il mio albero sicuramente dogecoin e gli nft saranno le volte allora Giuseppe la lavera mi ha permesso di vivere in 3 nazioni e senza non penso l'avrei mai fatto sì non lo sai però sì probabilmente sì io rendo ancora sono ancora convinto che la laurea sia fondamentale raccontaci di più aspetta che qui abbiamo un un che sei un baby pensionato ti paga 3k l'anno per andare all'università a Torino ah l'anno però ho letto al mese ok bene cioè che fai fai compri il treno e lo affitti alla regione non mi stupirebbe Ale vai massimi sistemi ti disturba il fatto che il big bang può essere scaturato del nulla a me molto non ne sappiamo però niente a riguardo può darsi una cosa che pulsa ogni tanto riscoppia non lo so non sappiamo nulla è improbabile sia scaturato dal nulla non lo so però sto speculando sto speculando anche il tempo stiamo scoprendo che il tempo è una cosa relativa no? può darsi che non ha senso parlare di prima perché il tempo è nato col big bang non lo so ammetto che da queste domande mi sono un po' distanziato mi interessa sempre il senso di tutto però sugli sugli assiomi proprio assiomi 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 di livello così alcuni mi concedo di prenderli per buoni finché in assenza di migliori prove questa è l'ipotesi al momento più più sensata e la prendo come buona quando un domani avremo altri dati anche difficile ormai di avere altri dati così a me mi spaventa molto di più anche se non mi riguarderà probabilmente che l'universo sta espandendo e che il sole fra 5 miliardi d'anni si mangerà la terra perché andrà in una fase da gigante e quello mi disturba un po' di più pensare che già fra un miliardo di anni la terra sarà fuori dalla zona abitabile ma chissà fra un miliardo di anni noi che esistiamo da qualche centomila chissà la specie umana da quanti millenni sarà estinta da quanti quasi miliardi di anni sarà estinta allora l'università non è gratis 150 euro di tasso di iscrizione e fine senza contare la borsa di studio se la meriti se non fa nulla anche 1000 euro di tasse giustamente 1000 euro ragazzi in America sono 50 pippi l'anno in America di tuition dove è possibile devi utilizzare già se me lo chiedi non hai fatto neanche la fatica di andare a cercarmi se vedi due live fa se vedi due live fa ho fatto due ore e mezza di live sulla su fine quarter in cui ho commentato tutto quanto allora oh cavolo no questa me la sono ancora persa la scimmia con l'impianto allora su Neuralink e su tutto quel mondo lì ovviamente ovviamente il buon tanti anni fa ormai il buon wait but why quando fece la serie su Elon Musk nel 2017 perché perché wait but why non scrive non produce più perché perché wait but why è un altro di quei di quei posti dell'internet che che non si possono non aver divorati se non l'avete ancora fatto andate tutti via sparite da qui anche anche fra un po' spariamo fra fra dieci minuti ce ne andiamo ma wait but why è un altro di quei canali che vanno per forza devastati consumati e e niente lui praticamente ha fatto una serie infinita sulla conoscenza su Neuralink alla fine è arrivato anche su come funziona il cervello lui fa post che al confronto i miei sembrano corti e fa vedere un po' cosa siamo riusciti a fare fino adesso cosa sappiamo del cervello oggi i vari tentativi di fare leggere e scrivere nel cervello cosa riusciamo a fare quanti neuroni abbiamo un po' quantitativo e è un po' nel senso che in realtà siamo ancora molto lontani da poter leggere i neuroni o interagire o far cose e e quindi mi ero intrippato con Neuralink all'inizio ho detto che idea figa era l'epoca in cui ancora Musk mi sembrava interessante oggi secondo me è un troll però su Neuralink mi sono detto cavolo che idea figa oddio apre scenari distopici apre scenari da Black Mirror consiglio Black Mirror episodio The Entire History of You The Entire History of You forse dovrei mettervi qualche link ma vabbè chi non l'ha chi non l'ha visto quest'episodio penso che deve andare via subito Black Mirror conoscete tutti quanti sì serie Black Mirror inglese prima che venisse spostata su Netflix di un tasse e merda prima serie episodio numero 3 The Entire History of You gente che ha impiantato un chip per memorizzare le cose vedere immediatamente e dico Neuralink l'ho un po' abbandonato ho detto beh sì non penso di andare da nessuna parte oggi mi dice che c'è una demo della scimmia con l'impianto che gioca a ping pong sicuro che oggi è che non sia il primo aprile Neuralink demo sarà questa 13 ore fa oh mio dio e allora monkey explained non l'ho vista me la bookmarko in watch later e via no dice impressionante vabbè poi la realizziamo con le lenti del critical thinking ma live non posso farlo devo cambiare computer vedo che non riesco a gestire troppe cose così me la guarderò grazie del suggerimento allora che ore sono sono già le 5 10 minuti e poi vado vedo tanti commenti ancora vediamo un po' vediamo qualcosa ingegneri lavorate un anno carriera verso deep learning computer vision phd o azienda è un ambito in cui un phd ti aiuta e le aziende ti pigliano meglio se c'è un phd non ti so dire dove però è un mondo che non l'ho saltato a piedi pari non ti so dire dove allora marco a proposito dell'attenzione come fare per limitare le distrazioni e concentrarsi sulle cose da fare consiglio digital minimalism di cal newport però non l'ho letto però ho visto ho partecipato alla challenge 30 giorni sono molte strategie è digital minimalism cal newport è il suo penultimo book ne ha scritto un altro più recente che è a world without email lui è critico anche verso le email io le email le trovo abbastanza tollerabili sono uno strumento uno strumento non da notifica ho tolto anche le notifiche sul telefono per le email però digital minimalism ha diverse strategie dalle book review colletto e da tutti i post di cal newport sul suo blog su come poter fare per rimuovere le distrazioni ci sono le app sul cellulare che ti limitano alcune cose il tracking io faccio time tracking e time blocking cal newport suggerisce molto di fare time blocking io aggiungo anche time tracking time blocking significa ne parliamo un'altra volta è un po' tosto però disciplina della mente varie strategie anche fare un po' di meditazione ti aiuta a essere più focused però la skill che devi devi dovete dovete dobbiamo dobbiamo coltivare dobbiamo coltivare tantissimo l'attention span tenere proteggerlo allora allora Erz ci chiede pensi che questo filtro credo che tu parli dell'input filtering snobismo o arroganza magari ignorare cose importanti per altri ma superficiali per te potrebbe un minimo potrebbe non è molto chiara la domanda non ho capito benissimo la domanda penso che tu intendi io filtro le informazioni che entrano la gente non sa cosa filtro o sentendo il filtro del critical thinking quindi andare a fare il cagagazzi il nitpicking dire no aspetta è ovvio che se vai alla cena di Natale con gli zii razzisti e ti dicono ah perché tutti gli immigrati sono negri oddio ho detto la parola proibita è ovvio che lì andare a dirgli però aspetta sulla base di cosa lì rischi di rovinarti il Natale però se ti circondi di gente e questo ovviamente lo consiglio se ti circondi di persone che come te hanno fame di verità e non di aver ragione lì sei in un ambiente sano e in un ambiente sano puoi permetterti anche di essere cagagazzi e di essere di apparire io direi snobismo arroganza non li reputo non mi sembra non ho mai percepito atteggiamenti snob arroganti eventualmente magari rompi scatole con gli amici con un gruppo di amici che ho noi ci attacchiamo ogni cosa attacchiamo attacchiamo l'idea non la persona no attacchiamo ah secondo me il mercato domani crolla ah sì perché motivamelo c'è una continua richiesta di dati e di prove e non aggrapparci a secondo me funziona così quindi non lo so non lo trovo sono snob arrogante in una in una cerchia di persone interessanti che voglio aver vicino comportarmi in maniera come dire critica scettica e alla ricerca di conferme e di smontare le idee trovo che sia soltanto sano per tutti che ne pensi del data scientist non so come ne cosa si intende per data scientist veramente ogni volta leggo una definizione diversa chi è il data scientist quello che fa machine learning big data quant analyst non lo so sembra un po' una supercazzola come definizione cosa ne pensi da fare se bisogna far riposare il cervello è una bella domanda cioè il cervello non si riposa mai no è vero meditazione aiuta però quelli che ti dicono ah tu studi troppo farlo riposare no no è un esercizio di a quello che fa le ultra maratone di a Giorgio Calcaterra che fa una maratona al giorno fatti una settimana di riposo quando sta bene hai quando se uno si rompe se uno sta stressato ci sono dei momenti in cui forse è meglio staccare un attimo però quando stai sano tu vuoi allenarti vuoi fare quello che ti piace è una roba che che non tra l'altro c'è anche delle delle documentatamente aiuta in maniera documentata aiuta a prevenire anche Alzheimer e altri problemi al cervello è il contrario è l'atrofia che è un problema io non non mi piace far riposare il cervello mi piace affinarlo mi piace riuscire a focalizzarlo a tenerlo in allenamento ma anche saperlo direzionare quello un po' mi manca ultimamente ogni tanto riparto facendo meditazione non riesco mai essere consistente con una meditazione e quella cosa che voglio migliorare è un po' complicato con i bambini perché devi trovare l'ora giusta del giorno e se arriva tua figlia a battere la porta ehi papà stai meditando dirlo da un po' al culetto ok allora vediamo un po' ciao Giorgio è una notizia di quel tuo ex collega che si è pentito di aver tentato di cambiare vita e tornare a lavorare intendi ci sono tanti mamma in google tanta gente non so quale intendi ex collega che si è pentito di aver tentato di cambiare vita cioè ho scritto un post due tre anni fa forse di più su un mio collega che ha mollato e poi dopo è tornato in realtà più di uno l'hanno fatto è complicato sono sempre emozioni e sensazioni temporanee si è pentito come fai a dire magari uno dice basta non ce la faccio più mollo tutto e allora molli tutto e vai a fare il contadino poi dopo cinque anni dici oh mio dio mi sono pentito vai dici forse ho fatto una cazzata torri indietro e riprovi poi magari trovi un equilibrio che è 50% contadino 50% lavorare in google non lo so non c'è mai un pentimento totale non lo so per come funziona io non c'è un faccio una cosa ah mi sono pentito faccio un'altra non ci sono delle cazzatine ok ma su su discorsi così su direzioni della vita eh è tutto parte del percorso io mi sono pentito io so di aver comprato una casa magari sì però non mi sono pentito di aver fatto i vari percorsi che ho fatto allora ok le ultime due tre domande e poi abbiamo finito quanto contano gli errori nel miglioramento personale e finanziario eh contano contano però sappi che fa tantissimi errori anche chi sta nella merda quindi contano se li sai se sai analizzarli in terza persona se sai uscire dal tuo corpo e guardarti come il tuo migliore amico e analizzarli in maniera accettarli ammetterli e analizzarli in maniera distaccata lì allora possono aiutare se no le cazzate non le continua a fare tra la gente che sta messa male continua a far cazzate su cazzate quindi ok falli analizzali esci le fuori e ammettili trovo il più grande ostacolo nell'utilizzo degli errori per migliorare è la testardaggine come si chiama l'ostinazione o l'ego alla fine è sempre ego is the enemy ego is the enemy ego is the enemy and the obstacle is the way ryan holiday sullo stoicismo che forse prima o poi affronteremo una delle filosofie più interessanti che ci stanno però l'ego direi ho fatto una cazzata non voglio sentire che ho sbagliato continuo a farle devo sicuramente aver ragione io e fai cazzate e la maggior parte delle persone che conosco che sono rimaste indietro sono così se vado in borgata da me a Roma e incontro un mio amico che sta sempre alla frutta si lamenta non c'ha una lira gli dici forse forse quelle ultime 30 cose che hai fatto in quest'ambito sono cazzate no 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 che dici funziona così si fa così fai tu no non conosco darò un'occhiata vedo che è partito un thread su Bibbia di Mauro Biglino me lo tengo aperto Bibbia Mauro Biglino non ho idea di chi sia non ho idea di cosa non voglio scaricare PDF ci sarà un video ci sarà qualcosa me lo mi darò un'occhiata non so proprio di cosa state parlando gli darò un'occhiata ok Giorgio tu le notifiche disattivi ma sul gruppo Telegram ce le invii eh leva la notifica cioè io mando sul gruppo se tu sei curioso di sapere che sto facendo vai sul gruppo intenzionalmente e la leggi leva la notifica no non volevo essere offensivo figuraci mancherebbe spiegaci un po' cosa fa un Data Scientist non oggi non ce la facciamo però poi ce lo spieghi eh questa in che senso dici non so di cosa parliamo troppo complicato industria dei videogiochi ho fatto un problema ah ciao Simone stavo riconosciuto è un po' troppo stressante e poi non voglio avere un capo quindi probabilmente tornerei ma faccio il CTO con Jacopo se Jacopo è in ascolto tu lo conosci adesso lo conoscerai sicuramente non so se stava con te a suo tempo nello stesso gruppo no farei magari farei un mio videogioco oppure oppure farei CTO qualcosa ah ok lo recupererò grazie bene ragazzi sono le 5 passate devo andare a cogliere mia figlia al nido e è stato un grandissimo piacere l'avanzamento in termini di critical thinking è stato minuscolo però andremo avanti sempre in maniera disordinata la prossima live magari stacco e facciamo una roba completamente diversa però poi ci torniamo poi ci torniamo qui sul sul critical thinking e la prossima volta oggi abbiamo visto un po' come io gestisco i miei input ok prossima volta vediamo un po' di strumenti mentali per leggere il mondo un po' di tool va bene e magari poi arriviamo ai cognitive bias e poi dopo arriviamo verso finalmente verso il knowledge management e verso il deep work e bla 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 ragazzi è stato un piacere c'è ancora qualcuno e ancora 78 persone siete troppi vi saluto è stato un piacerissimo alla prossima